Perché possiamo dire che questa edizione del MICAM è stata positiva per i calzaturieri marchigiani del distretto? Ma per diversi motivi, perché il numero di visitatori è aumentato, la qualità della fiera è sicuramente aumentata, i padiglioni si sono diventati molto più belli, ci siamo avvicinati non solo a parole al settore della moda, quindi abbiamo imparato anche a raccontarci un po' meglio. Io avevamo tra gli espositori tutte le griffe importanti della calzatura italiana che dopo tanti anni sono tornati a presentarsi al MICAM e poi siamo entrati ufficialmente a far parte della settimana della moda e questo è sicuramente un passo in una direzione giusta. Qual è il mercato attualmente principale di riferimento per voi e se ci sono stati clienti da nuovi mercati? I dati ci dicono che il mercato europeo rimane quello più importante, quindi la Germania, la Francia e gli altri paesi europei. Ovviamente la Russia e i mercati dell'export oltre europeo sono importantissimi per noi, soprattutto per il territorio marchigiano e quindi aver visto un ritorno così importante degli operatori dell'ex area Russia e dintorni per noi è un segnale importante. Nell'inaugurazione, la presenza di Gentiloni, c'è stato anche un saluto particolare da un lato per le zone terremotate e anche un invito, abbiamo letto anche lo stesso della Valle, che ha detto che era una burocrazia, ha voluto lanciare messaggi specifici e anche dei complimenti sul cuore grande dei calzatorieri marchigiani. Sì, infatti ci ha fatto particolarmente piacere, ci fa sicuramente piacere e sappiamo anche che nel nostro territorio abbiamo aziende importanti come quella che lei citava del gruppo Toze e non solo e questo deve dare il coraggio a tutte le aziende piccole e grandi a continuare e a ritrovare le strategie giuste in un mondo che è cambiato.